Ciao a tutti sono amo gli italiani, benvenuti alle ultime notizie di oggi La figlia di Francesco Totti e Hilary Blasi, Chanel, si è concessa una trasformazione del look che ha fatto impazzire i fan Giovane star di Instagram e influencer in erba, Chanel Totti è la secondogenita nata dal matrimonio tra Francesco Totti e Hilary Blasi, il 13 maggio 2007 a Roma La figlia dell'ex capitano Giallorosso è molto attiva sul suo profilo Instagram, dove vanta un seguito piuttosto importante Oltre al lavoro sui social media, Chanel Totti frequenta ancora le superiori ed è iscritta presso una scuola privata internazionale Sul suo profilo Instagram, Chanel Totti ama condividere foto e video della sua vita privata Appassionata di moda, in particolare del suo omonimo brand di lusso, Chanel Totti pubblica prevalentemente selfie, foto di outfit costosissimi e le locations dei suoi viaggi e degli hotel di lusso in cui soggiorna Per la gioia degli appassionati della squadra giallorossa, Chanel pubblica spesso scatti inediti in compagnia del padre Francesco, con cui condivide un rapporto sereno, nonostante la recente rottura con la madre Hilary Blasi Dopo la separazione dei suoi genitori, Chanel Totti vive attualmente con la madre Hilary Blasi ma, ha già mostrato la volontà di voler vivere da sola, trasferendosi in una città diversa per continuare gli studi dopo il conseguimento della maturità La secondogenita dell'ex capitano, è rimasta in ottimi rapporto con il padre e con la sua nuova compagna Noemi Bocchi Le due donne del capitano si frequentano abitualmente e hanno trascorso anche una vacanza insieme a Madonna di Campiglio Nuovo look per Chanel Totti, la foto sui social.l'influenza del bellissimo biondo platino di mamma Hilary Blasi, ha contagiato anche la figlia Chanel, la quale per il suo look ha sempre optato per un biondo caldo, impreziosito da alcuni riflessi più scuri Recentemente, la giovane influencer ha deciso di cambiare look e di rinfrescare il suo colore di capelli Con una foto condivisa sulle Instagram Stories del suo profilo, Chanel Totti ha mostrato il cambiamento ai followers Chanel Totti si è mostrata con un taglio di capelli più corto e con un colore decisamente più platino, in linea con i gusti della celebre mamma e della moda contemporanea Con il nuovo look, Chanel Totti si discosta dalla sua classica chioma voluminosa e mossa, a cui aveva abituato i fan, per avvicinarsi ad un aspetto più minimale e silky Per la giovane influencer con il nuovo look, piovono i commenti positivi dei fan